La creazione di Adamo è un affresco di Michelangelo Buonarroti, databile intorno al 1511, 2,80 x 5,70 m, facente parte della decorazione della volta della Cappella Sistina nei Musei Vaticani a Roma e fu commissionata da Papa Giulio II. Si tratta, come tutti sappiamo, dell'episodio più celebre della Sistina e una delle icone più celebrate dell'arte universale. Nel dipingere la volta Michelangelo inizia dalle campate vicino alla porta d'ingresso, eccola qua in questa meravigliosa foto, come potete vedere qui è piccolo, però questa è la creazione di Adamo. Quindi Michelangelo inizia dalle campate vicino alla porta d'ingresso, quella usata durante l'ingresso solenne in Cappella del Pontefice e del suo seguito, fino alla campata sopra l'altare. A metà del lavoro, nel 1510, il ponteggio viene smontato nella prima metà della Cappella e ricostruito nell'altra metà. Lavoro completato nell'autunno del 1511. La creazione di Adamo fa quindi parte della prima fase del secondo blocco, in cui le figure che compongono le scene diventano di maggiori dimensioni e la loro gestualità più essenziale ed energica. Per completare l'affresco furono necessari 16 giorni di lavoro. Dio e gli angeli vengono dipinti per primi usando la tecnica dello spolvero, tranne la tunica di Dio, eccola qui, che viene tracciata invece con l'incisione direttamente sull'intonaco, così come l'intera figura di Adamo. Ricordiamo che lo spolvero è una tecnica pittorica molto antica che permette di riportare un disegno su varie superfici, usata per evitare di dover eventualmente apportare delle correzioni direttamente sull'affresco. Lo spolvero prevede che si disegni il soggetto a grandezza naturale su un cartone preparatorio. E poi, una volta che l'artista è contento di questo disegno, con un ago o con un'altra punta, perfora fittamente i contorni del disegno stesso. Il cartone viene poi appoggiato alla superficie da disegnare e si tamponano le parti perforate con un sacchetto di tela riempito con carboncino o graffite. Tolto il cartone si ottiene una traccia a puntini che, se non ancora sufficientemente dettagliata, si provvede a ricalcare congiungendo i vari punti e poi il disegno viene completato o tramite un carboncino o tramite un pennellino bagnato appunto per stemperare i puntini. Bene, adesso descriviamo il quadro e parliamo velocemente dello stile. Allora, su uno sfondo spoglio, che simboleggia l'alba della terra, l'alba del mondo, si trova la figura giovane e atletica di Adamo, che vediamo in questo dettaglio, che da un pendio erboso, quasi sul ciglio di un abisso, fa per sollevarsi da terra tendendo un braccio verso Dio, che anch'esso, con il braccio teso, gli si avvicina in volo sorretto da una schiera di angeli, secondo la tradizione iconografica. Al posto dei classici serafini e cherubini, però, Michelangelo rappresenta gli angeli, lo vediamo meglio in questo dettaglio, come delle figure reali, composte in diversi atteggiamenti e impegnate quasi fisicamente a sollevare Dio. L'illuminazione e la nitidezza delle figure in primo piano, queste, le mette in risalto per contrasto con le altre. Adamo, il cui corpo è definito con notevole perizia anatomica, poggia il braccio sul ginocchio piegato, solleva lentamente il corpo e alza il dito ancora incerto verso quello assolutamente fermo di Dio. Il suo occhio non è dipinto, lo vediamo meglio, forse in questo dettaglio, ecco, non è dipinto, ma ricavato direttamente rialzando l'intonaco ancora fresco, come un ridievo, così da creare anche un gioco di ombre. La posa di Adamo viene studiata in un foglio a carboncino nero e sanguigna, cioè pastello rosso, oggi conservato al British Museum di Londra e lo vediamo in questa immagine. Il volto di Adamo, di profilo e leggermente ruotato all'indietro, è quello di un adolescente, senza un'espressione definita, che si contrappone all'intenso ritratto di Dio vediamo qui, maturo e carico d'energia, con la capigliatura grigia e una lunga barba fluttuante nell'aria. Sotto la gamba di Adamo, eccola qui, sporge la mano di uno degli ignudi, i giovani che siedono agli angoli dei pannelli narrativi intorno appunto alla creazione di Adamo. Ricordiamo che nell'arte rinascimentale gli ignudi sono delle figure ovviamente nude, variamente atteggiate, che spesso si rifanno alla statuaria antica. Dio e gli angeli sono inseriti in un grande manto rossastro, gonfio di vento, che per alcuni studiosi ricorda la forma di un cervello umano, quindi con un significato riconducibile alle concezioni neoplatoniche sull'unità dell'uomo, quindi cervello umano con Dio, per altri rappresenta invece una conchiglia e per altri ancora una sezione anatomica di un utero postpartum. Il professor Andrea Tranquilli, ad esempio, lo ha descritto come la rappresentazione di un organo cavo di colore rosso deputato alla creazione. Celeberrima e straordinaria è l'idea di rappresentare gli indici delle mani dei due protagonisti un attimo prima di entrare in contatto, come efficace metafora della scintilla vitale che passa dal creatore alla creatura da esso forgiata, un essere umano di straordinaria bellezza che riflette la perfezione e la potenza divina. Questa scena riceve unanimi apprezzamenti fin dall'epoca della sua presentazione o, se vogliamo dirlo meglio, della sua scopritura. E i contemporanei di Michelangelo vi leggevano la materializzazione di uno dei più alti ideali della cultura rinascimentale, quello della dignità dell'essere umano fatto a immagine e somiglianza del creatore. Inoltre, la bellezza del corpo umano era vista come una diretta emanazione della purezza spirituale dell'essere umano a cui quel corpo apparteneva e come il punto più alto della creazione divina. Prima del restauro, concluso nel 1994, la scena era molto scurita per effetto delle colle animali stese a più riprese per compattare la superficie e per le pesanti ridipinture che avevano in gran parte appiattito la gamma cromatica, quindi le varie differenze e i contrasti tra i colori, come ad esempio quelli tra la luminosa veste del creatore, eccola qui, e la cavità in ombra del mantello rosso. Molto bene, questo video termina qui, spero lo abbiate trovato interessante, come sempre vi ringrazio sinceramente per la visione, ciao a tutti e alla prossima!